Anni ruggenti, un'operazione per non perdere la memoria di un pezzo glorioso del calcio grottese. Presente, passato e futuro del gioco del calcio, si sono incontrati nei giardini pensili del Castello d'Aquino per la presentazione del libro Anni ruggenti, storia del calcio grottese di Franco Angrisano. Tra il pubblico una rappresentativa della squadra, accompagnata dal presidente Giovanni Uva, gli allievi della scuola calcio azzurra, accompagnati dall'allenatore Michele Bruno e numerosi ex calciatori degli anni d'oro del Grotta Minarda. Ha inaugurato e moderato la presentazione Norberto Vitale, anche lui ex calciatore che ha curato la prefazione dell'opera. A portare i saluti della città il sindaco di Grotta Minarda, Marco Antonio Spera, che ha esortato l'autore Franco Angrisano a continuare questa narrazione letteraria, magari con un secondo volume. Il consigliere delegato allo sport, Michele Spinapolice, ha definito il libro La Bibbia del calcio grottese ed ha sottolineato la piacevolezza della lettura, ricordando che il ricavato della vendita del libro servirà ad acquistare un defibrillatore da installare al campo di Grotta Minarda. Franco Angrisano ha spiegato che l'idea del libro è arrivata in un pomeriggio allo Stadio Romano durante una partita. Fu colpito dal fatto che nelle nuove generazioni elogiavano calciatori che rispetto ai vecchi del passato non erano niente di eccezionale e che nemmeno conoscevano stelle del calcio grottese come Tonino Landi e Vincenzo Assanti. Il pomeriggio è continuato con l'atteso intervento del presidente della provincia, brillante ex calciatore del Grotta Minarda negli anni 90 a Rino Buonopane, che ha sottolineato il valore del calcio come elemento sociale di unione in una comunità e di quanto siano importanti proprio i campi di calcio nelle piccole comunità come Grotta Minarda e Montella. Tonino Landi, glorioso ex calciatore del Grotta Minarda, osannato da tutti, è stato invitato a prendere la parola ed ha ricordato le dure giornate di allenamento, il legame esistente con i suoi compagni, le gioie e le lacrime condivise, soffermandosi sulla gratuità del gioco del calcio rispetto ai tempi moderni.